Condizionamenti su almeno 5 gare d'appalto della valore di circa 35 milioni di euro. Si chiude dunque il cerchio dopo lunghe e complesse indagini condotte dalla squadra mobile di Pescara, dal gruppo della Guardia di Finanza, coordinata dal PM Andrea Di Giovanni, su quello che è ritenuto essere solo un primo filone investigativo sugli appalti, la ASL di Pescara. Questa mattina notificate 5 misure cautelari ai domiciliari per il noto imprenditore pescarese Vincenzo Marinelli. Il suo factotum, Graziano Canonico, l'ex direttrice dell'unità operativa complessa acquisizione bene e servizi dell'ASL di Pescara, Tiziana Petrella, il dirigente Antonio Verna e l'imprenditore Fabio Tonelli. La procura di Pescara aveva chiesto misure cautelari anche per la figlia di Marinelli, Silvia Pasquale Sentenza, ma il GIP Antonella Di Carlo non ha ritenuto dare seguito a queste richieste. Per questo filone specifico sono 13 invece le persone raggiunte da avviso di garanzia. Secondo quanto accertato, a seguito di una scrupolosa attività di intercettazioni telefoniche e ambientali, acquisizioni ed analisi di dati telefonici, servizi di osservazione della Polizia Giudiziaria, acquisizioni documentali, perquisizioni e sequestri di dispositivi informatici, con conseguente analisi forense del loro contenuto, parte tutto da una fitta rete di relazioni messe in piedi da Marinelli per dare seguito a un collaudato meccanismo corruttivo all'interno degli uffici dell'Unità Acquisizione Beni e Servizi dell'ASL per dirigere verso parti interessate almeno 5 importanti appalti attraverso azioni di varia natura, dalle classiche tangenti attinte anche da appositi fondi neri, regali e cene conviviali, ma anche promesse di incarichi più prestigiosi e remunerativi. Il tutto fatto per venire ai dirigenti pubblici coinvolti direttamente o attraverso emissari, come il factotum di Marinelli canonico. Misure lascia intendere una nota della Procura rese necessarie per via della reiterazione di condotte illecite, nonostante il fatto che le persone coinvolte erano a conoscenza delle indagini a loro carico. I reati contestati sono di turbativa d'asta e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Tra gli appalti sotto osservazione risultano anche affidamenti diretti a tonnelli di commesse per forniture di dispositivi di protezione individuale in piena emergenza Covid.